Tre gol e tre punti per il Martina all'esordio in eccellenza contro il Castellaneta. Due volte ancora nel mezzo la rete di Fruci fissano il risultato sul 3-0 finale dopo una partita mai in discussione per i ragazzi di Pizzulli. In cronaca l'allenatore ex Corato sceglie il solito 4-3-3 dall'altro. Mister Danza schiera il suo Castellaneta con un prudente 5-3-2. Le prime due occasioni sono di Marca Martina al minuto 13 e al 20. Blazjevic va vicino alla rete del vantaggio che arriva al 33esimo su calcio di rigore. Tocco di mano in area, ancora si presenta dagli 11 metri e fa una 0 spiazzando Rossini. Pochi minuti ed è già tempo di raddoppio per i biancazzurri. Fruci sugli sviluppi di un calcio d'angolo raddoppia, si va negli spogliatoi sul risultato di 2-0. Nella ripresa il copione non cambia, è sempre il Martina a fare la partita. Tre occasioni per il numero 9 croato. Prima al sedicesimo Blazjevic va vicino alla rete. Ci riprova al minuto 29 e poi qualche istante più tardi, ma trova un Rossini miracoloso sui suoi passi. Nel finale c'è spazio per il Tris. Ancora dribbla tutti e deposita il pallone in rete. Finisce così 3-0 al Tursi e primi tre punti per il campionato per i ragazzi di Mister Pizzulli, che non tradiscono quindi le attese della vigilia.